appena finito e no purtroppo non è un effetto delle luci questo qui è proprio il risultato finale ciao a tutti oggi finalmente nuova recensione on the road e come avrete capito dalla mia faccia si tratta di una recensione on the road beauty e nello specifico andremo dal makeup artist più votato del 2019 e che sta continuando in teoria a mantenere questa sua posizione anche nel 2020 prima di dirvi tutto però come sempre ricordatevi di lasciarmi un like per vedere altri video di questa tipologia se non foste ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale ricordatevi di attivare la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video e poi se vi va nell'info box trovate il link per seguirmi su instagram anche l'anno scorso non so se vi ricordate poi ve lo lascio nell'info box eravamo stati nel centro estetico più votato della mia città appunto a provare un servizio makeup però mi sono resa conto che in tutto questo non eravamo stati dal makeup artist più votato però di milano quindi oggi andremo lì e nello specifico ho prenotato su treatwell un servizio di trucco fotografico che costa 100 euro e dura un'ora esatta nel salone revolution air beauty lab ha una valutazione altissima perché è di 4,7 su 5 e ci sono 514 recensioni le recensioni sono fantastiche dice ineccepibile ottimo beh ci sono vari servizi quindi bisogna poi capire a cosa effettivamente sono riferite questo tipo di recensioni hanno veramente tantissimi servizi sia per le unghie che per i capelli ci sono l'extension taglio insomma ci sono veramente tantissimi servizi anche a livello proprio di massaggi quindi hanno sicuramente anche dei servizi da centro estetico che potremmo poi eventualmente provare quello che proveremo noi oggi invece è in questa categoria trucco classico o semi permanente e io ho scelto questo qua che è donna trucco fotografico appunto della durata di un'ora oppure ci sarebbe stato ancora più costoso 250 euro quello sposa con prova che durava appunto un'ora e trenta se no c'era il trucco donna normale da 20 euro trucco da festa però io volevo provare qualcosa di un po' più particolare questa volta e l'applicazione lo definisce appunto il più votato del 2019 con questo punteggio altissimo ci sono veramente delle ottime recensioni indipendentemente da quelle riferite al servizio proprio anche legate all'ambiente alla professionalità del personale per esempio dicono molto professionale ottima accoglienza l'ambiente è pulito spazioso trattamento ben fatto i ragazzi sono bravi salone ben localizzato e facilmente individuabile piega fatta veramente molto bene ad onde tra l'altro quindi nel caso fatemi sapere perché poi dobbiamo andare ovviamente anche dal parrucchiere più votato e dal meno votato del 2020 più costoso insomma le recensioni devono ricominciare quindi come sempre voi continuate a segnalarmi altri servizi altri proprio posti specifici che vorreste che testassimo insieme ricominceranno anche quelle degli hotel ma come vi dicevo volevo non soffermarmi solo su Milano ma spazzare un pochino quindi ho bisogno di avere un attimo di tempo per organizzarmi perché diventa più difficile far combaciare tutte le varie cose se non sono proprio a Milano nello specifico comunque qui ho delle aspettative altissime perché praticamente quasi tutti hanno dato o 5 stelline o se no 4,9 e quando è andata male male 4,5 perciò ho delle aspettative veramente altissime ma prima di dare un giudizio voglio andare a provare di persona come sempre sono appena arrivata a Milano e incredibilmente sono riuscita a trovare posteggio nella via precisa dove c'è il centro estetico infatti sono pure in anticipo perché non avevo preventivato questa cosa come sempre facciamo il momento prima tra l'altro con questo brufolo enorme che mi sta accompagnando quindi oggi ci sarà un bel po' di lavoro da fare anche per la base però il fatto di aver trovato posteggio subito unito alle super recensioni che avevamo letto mi fa presagire benissimo però non parliamo troppo presto dobbiamo prima andare a toccare con mano e soprattutto sperare che mi lasciano fare le riprese cercherò di documentare come sempre tutto e tra un attimo si inizierà il solito voiceover ed eccoci qui come prima cosa ha iniziato applicandomi credo fosse un primer scusate se non riuscirò a descrivere bene tutti i passaggi ma in realtà li ignoro anch'io li sto rivedendo con voi adesso che ho montato il video perché in quel momento non mi ha spiegato niente comunque credo che fosse il primer di Make Up For Ever quello nella confezione bianca a quanto pare e me l'ha steso direttamente con le dita applicandolo prima in alcuni punti strategici del viso quindi su fronte, guance, zigomi, sul naso, sull'arco di cupido a questo punto è passato al fondotinta e di nuovo me l'ha applicato sempre con la stessa strategia quindi direttamente dall'erogatore, su fronte, zigomi, mento, sul naso insomma in alcuni punti strategici che sto rivedendo anch'io con voi e adesso che lo rivedo in video mi rendo conto del motivo per cui poi il risultato vabbè lo vedrete non voglio spoilerarvi nulla comunque il fondotinta mi sembrava parecchio scuro a questo punto mi ha applicato un po' di correttore solo una tonalità di correttore ed è andato a stenderlo sempre con le dita una cosa che mi sta stupendo adesso che rivedo le immagini è che utilizzava il dito medio mentre io solitamente utilizzo l'anulare perché trovo che in questo modo risulti più delicata la pressione che faccio quando stendo il prodotto però in generale è la prima volta che mi capita durante una recensione on the road che il makeup artist utilizzi direttamente le mani per fare tutta la base del viso solitamente cambiano pennelli o comunque utilizzano il pennello non ho idea del motivo probabilmente questo tipo di fondotinta andava steso in questo modo sinceramente non sono riuscita a vedere il nome del prodotto non ho idea del prodotto a questo punto ha continuato applicandomi penso un altro fondotinta leggermente più chiaro o decisamente più chiaro di quello che mi aveva applicato sempre in punti strategici e credo che sia dovuto al fatto che forse stava notando che il colore che mi aveva applicato era effettivamente troppo scuro infatti poi si è messo addirittura a applicare l'altro fondotinta quindi quello che avevo usato inizialmente sia sul collo per evidentemente camuffare lo stacco che all'attaccatura delle orecchie però nonostante quello il colore risultava davvero diverso dal mio e poi passato agli occhi utilizzando credo che fosse un pennellino di NYX la palettina invece non la conosco e oltretutto aveva principalmente colori in crema che solitamente io non amo per quanto riguarda la palpebra e anche questo pennellino era molto piccolo e le setole erano un pochino fastidiose quindi diciamo che rispetto ad altre volte è stato un po' meno piacevole il momento del trucco occhi comunque ha iniziato dal colore più scuro della palette e ha intensificato tutta la piega dell'occhio concentrandosi particolarmente sulla parte esterna quindi è andato ad allungare l'occhio creando una V molto evidente con il colore più scuro è andato ad allungare l'occhio a questo punto con un marroncino intermedio decisamente più chiaro dell'altro ha iniziato a riempire la palpebra mobile nella zona appunto che aveva contornato con il colore più scuro sempre facendo dei movimenti molto particolari picchiettando bene il prodotto nelle immagini sembra quasi impercettibile il colore però in realtà visto all'esterno poi si notava la differenza semplicemente avevo la luce dietro quindi ho cercato di fare del mio meglio ma in alcuni casi appunto era la luce che non rendeva giustizia ha ripreso poi il colore più scuro ed è andato a ripassare ancora una volta la parte della piega dell'occhio e quel colore ha fatto un sacco di fallout che non mi ha eliminato me l'ha eliminato poi alla fine e a questo punto ho utilizzato il colore più chiaro della palette per andare a illuminare l'arcata sopraccigliare e poi me ne ha messo un pochino anche vicino al condotto lacrimale e poi ha ripreso di nuovo il colore più scuro per creare il punto sfumare bene il punto di transizione tra i due colori è passato poi alla matita ha utilizzato una matita marrone scura simile a quella che utilizzo io di L'Oreal però appunto purtroppo non vi so dire i brand dei prodotti e non sono neanche riuscita a fare una foto mentre ero in negozio perché erano in una posizione nascosta rispetto a dove mi trovavo io credo comunque che si chiamasse Patricia Mee qualcosa del genere ma non ne sono sicura e comunque con la matita marrone è andato a intensificare tantissimo l'attaccatura delle ciglia e poi a sfumare la parte finale con un cotton flock che è un'altra cosa che sinceramente non mi era mai capitata fino ad ora mi ha messo poi la matita anche nella rima inferiore interna dell'occhio sapete che io ho l'occhio super sensibile quindi questa cosa la patisco un po' e poi ha sfumato il colore all'esterno dell'occhio sempre utilizzando un cotton flock e devo dire che ha fatto una sfumatura molto ampia a questo punto è passato al contouring e ha usato due colori di terre secondo me particolarmente scure effettivamente forse sta rendendo anche invidio soprattutto nella zona dello zigomo si è creato una sorta di macchia un po' troppo scura che però ha continuato ad intensificare utilizzando anche dei colori ulteriormente più scuri e poi mi ha fatto un po' di contouring anche sulla fronte mi ha applicato il mascara uno strato leggerissimo di mascara sia sulle ciglia superiori che sulle ciglia inferiori e poi con il correttore che avevo utilizzato prima quindi a inizio trucco per le mie occhiaie è andato a cancellarmi completamente le labbra è una cosa che io personalmente non faccio mai ma effettivamente in teoria dovrebbe andare a rimpolpare ad ingrandire di più le labbra e valorizzare meglio il colore che si va ad applicare dopo in questo caso gli avevo chiesto di concentrarsi più sugli occhi rispetto alle labbra quindi ha utilizzato un gloss per terminare il trucco e questo qui credo di averlo riconosciuto doveva essere il gloss art design di Collistar nella tonalità più pescata di quelle disponibili quindi un rosa leggermente aranciato molto carino che si sposava bene con il trucco occhi e per finire su mia richiesta è andato a disegnarmi le sopracciglia ma siccome quello destro mi sembra risultava più netto e più evidente rispetto a quello sinistro di nuovo poi per sfumarlo e per renderli più simili tra loro è andato ad utilizzare un cotton fioc eccoci qui trucco appena finito e no purtroppo non è un effetto delle luci questo qui è proprio il risultato finale cioè la luce rispetto a tantissime altre volte è anche decisamente migliore ma sinceramente a me adesso ve lo faccio vedere anche frontalmente però volevo farvelo vedere anche così ma il risultato non mi soddisfa principalmente più che per gli occhi che adesso ve li faccio vedere anche più ravvicinati non mi sembrano neanche particolarmente simili tra loro però la cosa che mi piace meno in assoluto è la base che è veramente troppo scura cioè penso che il fondotinta sia di due o tre tonalità addirittura più scuro di quello che dovrei utilizzare abitualmente voglio farvelo vedere anche con l'inquadratura frontale penso che sì il problema più evidente di tutto sia la base che cioè guardate rispetto alle mani sembro abbronzata e sinceramente mi sembra troppo un effetto di quelli che cercavo di fare quando ero più piccolina che quindi mi truccavo e mettevo un sacco cioè non si vede più tanto bene neanche il contouring perché c'è questo fondotinta di base che è sbagliato infatti in realtà me l'ha messo anche sul collo e penso che sul collo lo stacco si veda tantissimo adesso per fortuna ho i miei trucchi quindi sicuramente la base andrò a rifarla anche perché le occhiaie non sono coperte come piace a me gli occhi non mi dispiacciono probabilmente aggiungendo un pochino di mascara e andando a collegare meglio con la matita marrone in modo che adesso non so se in videocamera rende però non ci sia questo stacco tra l'attaccatura delle ciglia e la riga perché io preferisco che sia cioè cerco sempre di fare in modo che la riga vada ad infoltire un pochino l'attaccatura delle ciglia quindi averla così staccata soprattutto come ce l'ho nell'occhio destro non mi convince tantissimo probabilmente avendo chiesto un trucco fotografico in questo caso non ho chiesto di utilizzare un colore piuttosto che un altro spero che si siano visti bene tutti i passaggi che ha fatto perché in realtà non avevo una posizione congeniale dove mettere la videocamera anche se sono stati gentilissimi ho spiegato appunto che avrei dovuto ricavare dei frame da queste riprese quindi mi hanno anche trovato un tavolino dove appoggiarla perché oggi ovviamente sono riuscita a non portare il cavalletto cioè ce l'ho ma non ho il supporto per la videocamera e anche questo è il motivo per cui vi ho posizionati lì che è una posizione un po' insolita ma si può riutilizzare secondo me perché non mi dispiace questa cosa poi magari fatemela sapere comunque in generale sicuramente al servizio trucco non darei 4,9 o 5 stelline o per quella che è la mia esigenza forse appunto è dovuto al fatto che trattandosi di un trucco fotografico non ci sono abituata e quindi non mi riesco a vedere per quelle che sono le mie esigenze anche in vista a parte che speravo mi mettesse un pochino di illuminante così da fare un po' più effetto anche nelle foto e invece purtroppo non me l'ha messo però volendo ce l'ho quindi quello sarebbe risolvibile però in generale per quelle che sono le mie esigenze non saprei che valutazione dare ma sicuramente non sarebbe così alta come quelle che abbiamo letto nelle recensioni poi appunto dovrei provare anche tutti gli altri servizi perché non è l'unica cosa anzi quando sono arrivata stavano facendo i capelli a una ragazza c'erano due ragazze che facevano le unghie quindi insomma avranno sicuramente svariati servizi però alla fatidica domanda che mi faccio sempre al termine delle recensioni on the road ci torneresti? io probabilmente no non sinceramente non ci tornerei perlomeno non a usufruire di questo servizio anche perché in realtà ho speso 100 euro non ho lo scontrino perché avevo pagato direttamente da Treatwell si può scegliere di pagare in negozio pagare con la carta o pagare con Paypal Paypal vabbè io ho usato l'ultimo metodo quindi avevo già pagato in fase di prenotazione sinceramente il rapporto qualità prezzo non mi ha soddisfatta del tutto in questo caso anche i prodotti utilizzati sinceramente non sono riuscita benissimo a vederli ho visto che ha usato ecco anche il mascara mi aspettavo che trattandosi di un trucco fotografico si accentuasse anche la questione dello sguardo perché non avevo fatto particolari richieste però gli avevo detto magari di soffermarsi sullo sguardo e quindi mi aspettavo che mi mettesse un pochino più di mascara in realtà forse quello che aveva era finito non lo so era tipo forse quello di Collistar Art Design che usavo anch'io tipo un annetto e mezzo fa però secondo me ci volevano decisamente più passate quindi quella è un'altra cosa che andrò a fare anzi adesso prendo i trucchi così magari lo sistemiamo insieme che è una cosa che vedo fare spesso anche nelle recensioni delle ragazze americane che seguo perché probabilmente si è talmente abituati a vedersi con un determinato trucco in un determinato modo che poi quando si fanno questo tipo di esperienze non succede solo a me di non rimanere del tutto soddisfatta quindi direi che prendo i trucchi e cerchiamo di sistemarlo tanto tutta la base andrà tolta sì perdonatemi se faccio questa cosa nella macchina ma ovviamente mi fermerò a Milano per fare altre cose e quindi come sempre non tornerò a casa fino a stasera e sinceramente non me la sento di andare in giro per il resto della giornata comunque più che altro con questo tipo di base perciò andiamo a rimuoverla del tutto vorrei cercare almeno di risistemare cioè di togliere questa base troppo aranciata e troppo scura cioè guardate quanta roba sta venendo via è incredibile e ancora non sono neanche a metà secondo me della rimozione sicuramente è un prodotto che dura la marca forse era Patricia Mee qualcosa del genere ma non sono riuscita tantissimo a vedere i prodotti la parte che mi premeva di più mi sembra di essere riuscita a toglierla e adesso rifacciamo praticamente da capo la base così uso i prodotti che uso abitualmente e almeno dovrei esserci come colori faccio la base quella solita che mi avete visto fare mille volte nei vlog con la base così io sinceramente mi piaccio di più ho mantenuto solo la parte sotto degli occhi adesso vado a fare il mio solito trucco quello semplicissimo con la palettina di Uda Beauty però la parte sotto sinceramente una volta messo il correttore mio e con il fondotinta della mia tonalità che in questo momento mi sembra pure troppo scuro ma è perché adesso mi sono fissata ovviamente però la parte sotto dell'occhio non mi dispiaceva per nulla sopra invece preferisco fare una cosa più semplice anche perché ho diverse cosucce da fare oggi quindi non mi sarei sentita particolarmente a mio agio se avessi deciso di mantenere quel tipo di trucco farò il mio solito anche per quanto riguarda gli occhi e poi andrò a sistemare non so se la vedete ma c'è ancora qualche residuo andrò a sistemare anche la riga che mi aveva fatto con la matita o con l'eyeliner nero o con la mia classica matita marrone e voilà sistemazione completata si vede ancora un pochino il residuo di quello che ho fatto io però insomma adesso mi sento più cioè magari sto anche peggio me lo scriverete tutti però io mi sento meglio così e non sarei riuscita ad andare in giro per il resto della giornata soprattutto con quella base troppo scura ma questa cosa si è capita sarà già venuto un video eterno perché comunque il trucco ecco è durato addirittura più di un'ora quindi su quello assolutamente tempi rispettati anzi forse è stata una delle volte in cui la fase di trucco è durata di più in assoluto però vabbè il risultato l'abbiamo capito non ci tornerei però adesso voglio andare a provare fatemi sapere se l'idea vi può piacere andiamo insieme a provare il makeup artist meno votato del 2020 e così via visto che oggi inauguriamo anche le recensioni on the road beauty quindi di makeup del 2020 l'abbiamo inaugurato con il migliore anche se l'esperienza rispetto a tante altre volte non è stata al massimo quindi direi che non partiamo benissimo però è anche positivo perché nel caso si può sempre migliorare quindi vedremo come andranno le prossime comunque è il momento mi raccomando come sempre e ancora più del solito in questi casi sbizzaritevi nei commenti qui sotto io smetto di parlare vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video ciao